Presidente Marcolini, perché è importante ospitare un seminario, un ciclo di seminari come questo? Beh, la missione dell'Istau poggia su un treppiedi, è una scuola di alta formazione per le imprese e quindi i destinatari finale riguardano il mondo economico, ma insieme ai destinatari finali c'è il mondo accademico scientifico, la ricerca, l'approfondimento e quella parte di pubblica amministrazione che si incarica di sostenere lo sviluppo economico e mi pare che il ciclo di seminari che il Consiglio regionale ha voluto organizzare qui all'Istau risponde un po' a queste esigenze, quindi siamo assolutamente consonanti e siamo molto contenti di poter ospitare oggi il primo di un ciclo di tre seminari con personalità ben selezionate che si interroga sul futuro della regione Marche da un punto di vista economico, sociale ed istituzionale.